Buongiorno a tutti, è un piacere di essere qui a Milano oggi. Ho intitolato nel discorso la certezza dell'incertezza, ovviamente perché stiamo a mio avviso entrando in una fase, un territorio sconosciuto per l'economia italiana, un momento particolarmente difficile. Io qui stamani parlando a un gruppo di direttori finanziari, esperti di finanza e banche, volevo assolutamente capire con voi quali possono essere le conseguenze del braccio di ferro fra l'Italia e l'Europa, delle politiche economiche, del nuovo governo, della situazione che riguarda il debito pubblico. Volevo parlare un attimo dell'eventuale ripercussione sull'economia reale, sul sistema bancario e sulla stessa crescita, perché nella bocciatura della Commissione europea vorrei sottolineare che non hanno soltanto fatto come al solito a Bruxelles si fa un calcolo dei numerini. È oggettivamente vero che i numeri promessi dallo sfortunato Ministro del Tesoro italiano Giovanni Tria, in cui aveva promesso all'Europa diversi mesi fa, sottolineato e assecondato dall'attuale Presidente del Consiglio, che non si chiama Salvini, ma Conte, Giuseppe Conte, che ha promesso un deficit per il 2019 di 1,6%, e poi è diventato 1,8%, e poi è diventato 2,4%, e adesso quel 2,4% sembra non più credibile perché fu basato su una stima di crescita per il 2019 che non ci sarà dell'1,5% di crescita PIL. Tutte le istituzioni più attraveri del mondo, dal Fondo Monetario, all'Ox e allo stesso Isted, Banca d'Italia, Corte dei Conti, stimano la crescita italiana fra 0,9% e 1,2% per il 2019. Se la stessa manovra, già non più credibile perché non rispetta gli impegni iscritti all'Europa, non è basato su una cifra di stima credibile, allora è costritto sulla sabbia, e quindi il rischio, secondo me la probabilità, è che andremo verso un deficit non di 2,4%, ma 2,6%, 7%, 8%, 9%, quello che volete, anche 3%. Chiaro che in un momento in cui la crescita del PIL italiano nel terzo trimestre è stata zero, e siamo probabilmente simili a quel livello per il quarto trimestre, l'idea è che si potrebbe improvvisamente dal primo gennaio fare un salto e arrivare a un 0,5% di crescita nel primo trimestre del 2019, perché sarebbe la base necessaria per ottenere i risultati desiderati dalla manovra, le chance, le possibilità di quelli sono fra zero e meno di zero. E quindi siamo davanti a un dilemma che è anche diverso dal 2011, della crisi dell'ero, dello spread al 500 e l'arrivo dei monti. E' un'altra storia questo, perché questa è la prima volta che un governo italiano praticamente manda a quel paese il resto dell'Europa. Quello che differenzia i governi precedenti a questo governo, a parte di questioni di competenza o di credibilità, è che questo governo sembra da un lato incosciente e dall'altro molto cinico, perché chi cercherebbe di sostenere che una manovra basata su una stima di crescita di 1,5% potrebbe avere successo o bisogna essere incosciente, cioè incompetente nella materia economica. E stamattina esce una nuova edizione del mio libro sull'economia italiana in cui purtroppo concludo che siamo davanti a quello che, lo so che sono parole forti, ma un'azzoccaglia di sovranisti filoputignani incompetenti, neofiti e cinici scaltri politici più navigati che non hanno altro idea che portare avanti le promesse di accontentini e caramelle elettorali per far accrescere il consenso elettorale verso maggio 2019 per le elezioni europee. Questo ovviamente, se mi chiedete chi sono i incompetenti e chi sono quelli più cinici e i calcolatori, lascio a voi, decido di fare 5 Stelle e la Lega, ma credo che sia abbastanza chiaro nel mio senso. Ma al di là dei numeri, dei conti che non tornano, c'è un altro problema che la Commissione europea ha messo in evidenza molto bene ieri, e cioè, anche se ci fosse un scenario in cui le cifre citate dal governo sul deficit, sulla crescita, fossero considerate credibili, anche a quel punto la ricetta contenuta nella politica economica italiana in questo momento non convince nessuno come una ricetta, una formula credibile, se gli obiettivi, come quelli dichiarati, sarebbero di creare lavoro e stimolare la crescita. La domanda interna in Italia è troppo fievole, la domanda interna non viene stimolato in modo di portare la creazione di nuovi posti di lavoro con un programma di assistenza sociale che si chiama il reddito di cittadinanza e che probabilmente per la metà sarà preso da furbi, non dico solo nel sud del paese, in tutta l'Italia, furbi che lavorano in nero e quindi un spreco di soldi e anche un insulto agli italiani onesti che lavorano. Ma la quota 100, quindi non crea lavoro dare assistenza sociale, è un disincentivo al lavoro come il decreto di dignità che ha tagliato la possibilità di rinnovare i tempi determinati fu un disincentivo al lavoro. Queste sono politiche, ha detto la Commissione Europea, io sottoscrivo, che rischiano di danneggiare la crescita e portare meno crescita e più disoccupazioni, invece del contrario. È forte dire questo, ma è così. Disfare le riforme sul Jobs Act da un lato e sulla riforma fornero dall'altro può avere un appeal popolare politicamente molto utile per chi vuole farsi raccogliere consenso, ma non crea lavoro. Voglio scomparare al terreno per sempre una propaganda, un fake news molto grave, perché ci sono dei governanti, dei leader, dei esponenti politici in Italia che vanno in giro e forse per incoscienza, forse per incompetenza, forse per cinismo, sostengono che basta mandare un uomo o una donna in pensione a 62 anni e automaticamente, magicamente, sono creati due o tre nuovi posti per i giovani. Questa idea di un meccanismo automatico in cui uno esce al mercato del lavoro a 62 e uno di 25 viene assunto, non esiste qui sul pianeta Terra, cioè esiste in qualche fantasia, forse esiste nell'Unione Sovietica dagli anni 50, quando lo Stato poteva fare i piani quinquenniale e non esistesse nessun mercato. Italia non è un mercato liberissimo, ci sono troppi settori dove non c'è la concorrenza, troppi lobby, troppe corporazioni e mancanze di concorrenza a favore del consumatore, ma Italia comunque è un mercato sufficientemente libero in modo che non si può decretare o decidere per decreto uno esce dal mercato del lavoro, tre entrino. Però questo è lo stato dell'arte. Oggi quando le sottosecretarie del MEF per esempio vanno in televisione e spiegano che il motivo per cui lo spread con il Bund è così elevato è tutto colpa della Germania perché loro tengono gli interessi troppo bassi. Questo è il livello di comprensione dei nostri governanti. Allora, che succederebbe se un paese grande, importante del G7 fossi governato da persone ignoranti o peggio, noi americani abbiamo un po' di esperienza con questo fenomeno perché abbiamo un Presidente degli Stati Uniti che sta rovinando l'economia mondiale, danneggiando la crescita mondiale con delle guerre commerciali e protezionismo che sono un zero sum game e che portano al rallentamento dell'economia mondiale. In Italia abbiamo un governo che evidentemente non sa fare i conti o non vuole fare i conti o una parte non sa fare i conti e l'altra parte, per usare l'espressione volgare così amato da Benito Mussolini e anche di Salvini, me ne frego. Ecco, questa circostanza mi preoccupa, mi preoccupa come economista, mi preoccupa come uno che rispetta e ama l'Italia come un grande paese, un paese che è un'economia che potrebbe funzionare benissimo perché è il secondo potenza industriale dell'Europa, ma se si fa una serie di politiche che indeboliscono il sistema bancario, fanno svalutare i bilanci di tutte le banche con perdita di BTP, creano, producono l'effetto di un'eventuale stretta creditizia nei prossimi giorni, settimane e mesi che durerà per tempo, quindi danneggiano le piccole e medie imprese che non riescono a ottenere il credito sufficiente. Se un governo fa questo e poi fa tutto un debito con delle politiche economiche sbagliatissime che fanno danni all'economia invece di far stimolare la crescita. Per esempio, se veramente uno volessi fare una politica di deficit, allora facciamo non come questo 22 miliardi di deficit in una finanziaria di 37 miliardi e questi 22 sono o regalini all'elettorato del sud per 5 stelle o regalini a chi vuole disfare la riforma Fornero. Allora, a quel punto abbiamo una situazione veramente per me senza precedente. Come si può ragionare con persone che non vogliono ragionare? L'idea di spedire il notaio di Salvini e Di Maio a Bruxelles sabato, scusami, il primo ministro dell'Italia a Bruxelles sabato, che svolge il ruolo di notaio più che leader politico. Se pensiamo che questa è la soluzione e che tutto sarà risolto sabato in una riunione con la persona che Matteo Salvini ama chiamare un ubriacone, allora non ho molta fiducia. cosa vuol dire tutto questo per noi? Vuol dire allacciate le cinture, stiamo vivendo in un momento in cui l'unica certezza è che ci sarà un periodo di incertezza, di volatilità nei mercati, volatilità nei spread. Io per esempio non vedo una popolisse, non vedo un crack, non vedo un'Italia che rischia la banca rotta. E' molto preoccupante che i BTP hanno venduto 8-900 milioni invece di 5-6 miliardi. Questo è un segno molto allarmante perché se non si può vendere i titoli italiani, non si può finanziare il governo italiano o si pagherà i livelli ancora più elevati. Questo è molto preoccupante. Ma quali sono gli effetti e le conseguenze per noi? Numero uno, come ho già detto, le banche purtroppo non ce la fanno a resistere crolli in borsa, mancanze di capitalizzazione del mercato, book value distrutto, market value distrutto. Questo indebellisce gravemente il sistema bancario e andrà avanti nel tempo, secondo me. Detto questo, ci sarà l'effetto di danni collaterali di piccole e medie imprese che non hanno accesso al credito in queste circostanze. È vero che i mutui sono legati alle rebore e quindi non è che chi ha già un mutuo vede un rimbalzo automatico. Ma è anche vero che le banche adesso decidono di chiedere più spread, più margine per loro nei nuovi mutui per proteggersi contro le fluttuazioni delle tassi interesse. Italia con un debito di 2,3 miliardi di euro non può sostenere un spread in cui la nuova normalità diventa 300-315. Mi fa pena e mi fa preoccupazione, mi fa paura quando accendo un TG in Italia, è vero un conduttore molto famoso, non faccio il nome di uno ex Mediaset adesso alla 7, ma che dice, oh è sceso a 3.09, 3.14 oggi, lo spread è giù a 3.11 stasera, come fosse una buona notizia, perché non è 325. Questo deve preoccupare ogni persona che è andata in scuola o liceo o università e sa contare, perché vuol dire che rischiamo di anche essere in una cultura pop, in cui non si capisce l'economia, si nega la realtà, si negano i fatti e si negano le leggi della fisica, di Isaac Newton, dell'aritmetica e si cerca di far funzionare una cosa che non esiste. Allora, il re è nudo, ma ci vorrà un po' di tempo prima che la gente capisce, perché si può ingannare tante persone per tanto tempo. Abramo Lincoln ha scritto, ha detto oltre 150 anni fa, che si può ingannare un po' di gente per un po' di tempo, si può ingannare tutte le persone per un po' di tempo, ma non si può ingannare tutti per sempre. Questo significa che a un certo punto in Italia, come in America, l'onda populista e demagogica, questa canalizzazione di rabbia e paura per uso demagogico da parte di leader democraticamente eletti, ma che poi cercano di delegittimare le istituzioni della democrazia, compreso la magistratura e la stampa libera, quella è la tendenza con Trump, quella è la tendenza che avverto come rischio qui, sembra esagerato a qualcuno, ma non lo è, questa situazione non è sostenibile nel tempo. Oppure abbiamo deciso di far finta di niente, pagare, i contribuenti italiani finiscono a pagare interessi aggiuntivi di 5 o 6 miliardi, solo 5 o 6 miliardi di euro all'anno, portandoci da 70 a 75 miliardi di euro di interesse sul debito pubblico ogni anno. Vi rendete conto che se le azioni del governo creano costi aggiuntivi per il governo e quindi per i contribuenti di 5 o 6 miliardi alla nuova normalità di 300 come spread, hanno vanificato qualunque effetto positivo che ci può essere da una cosiddetta iniezione di questi soldi nell'economia attraverso il reddito di cittadinanza. Cioè l'effetto moltiplicatore sul reddito di cittadinanza è marginale. Poi investimenti pubblici sarebbe logicamente un modo tipicamente kenziano e macroeconomico per stimolare la domanda alla crescita del lavoro, ma se la parte degli investimenti pubblici è aumentata in questa manovra da solo 10%, si va da 40 a 45 miliardi all'anno, perché in tutti questi ultimi anni, ogni anno, gli investimenti pubblici sono 30, 35, 40 miliardi. Per avere un effetto importante di stimolo della domanda interna alla crescita e alla creazione dei posti di lavoro ci vorrebbero il triplo di quello. Ci vorrebbero dei scravi fiscali per l'occupazione femminile, ci vorrebbero le detestazioni come il Jobs Act ha fatto che in una mancanza di domanda interna si dà incentivi alle piccole imprese a assumere detestando i contributi per i over 50 o per i giovani o per le donne. Queste politiche sì. Se in deficit uno avrebbe speso 22 miliardi in deficit, che è la somma programmata per il deficit, per scravi fiscali per le imprese e investimenti pubblici di livello, non di 5 miliardi aggiuntivi, ma di un livello importante, allora a quel punto, almeno, anche se i numerini non funzionano, le politiche economiche servono, almeno sulla carta, quelle giuste a portare avanti la crescita dell'occupazione. La Commissione europea ha detto in modo chiaro e tondo che queste politiche economiche possono danneggiare la crescita, rallentare la crescita, creare più disoccupazione, più burocrazia, più confusione e più rischio per un paese già vulnerabile a causa di essere fortemente indebitato. Allora, qualcuno dirà, ok Friedman, finora non ci hai detto nulla di nuovo, ma credo di aver detto qualcosa di preoccupante, perché io credo che questa è la realtà sottostante che governerà la realtà della nostra economia europea e italiana almeno per sei mesi. Io non amo fare previsioni del futuro, ma fino a maggio riesco a vedere. Riesco a vedere, come tutti voi, la partita politica. Potrebbe essere che il mister Salvini deciderà di giocare da solo la partita e scaricare Luigi Di Maio e Davide Casaleggio e Beppe Grillo e cercare di vincere e puntare su Palazzo Chigi da solo. E stranamente, stranamente, anche se non vado d'accordo con tante politiche della Lega, particolarmente sulla società dell'immigrazione, stranamente se Salvini vincessero con il partito di Forza Italia più o meno digestito, mangiato, e Berlusconi ad Arcore, in Sardegna, dove vuole, ma non più attivo nella politica italiana, e Di Maio fuori, e semmai Meloni, perché Destro Estrema ama Destro Estrema, quindi Salvini e Meloni possono andare bene insieme, potremmo vedere un governo di Destro Estrema in Italia fra sei mesi o un anno, con Salvini presente il Consiglio, che perversamente potrebbe permettersi di essere più ragionevole con l'Europa che in questa alleanza con i Grilini, perché la dinamica fra Lega e Grilini è impossibile. Da un lato c'è una specie di statalismo che vuole nazionalizzare l'Italia e fare la fusione fra l'Italia e i tassisti di Roma. No, ferrovie, stessa cosa. Una fusione che non esiste, cioè che non sta in piedi, non ha nessuna logica industriale e creare nuovi buchi di perdita, perché l'Italia è un grande buco. Oppure nazionalizzare le autostrade, o confiscare le cose, o espropriare, o portare avanti una politica statalista da un lato, Grilini, e dall'altro quel nazionalismo, quel sovranismo, quel odio degli altri che fa gola a chi vuole far accrescere il consenso elettorale. L'ultima volta che abbiamo visto un matrimonio così occulto e così pericoloso fra nazionalsocialismo, statalismo e odio raziale, sono stati nazionalsocialisti che hanno avuto un altro nome negli anni trenta, l'hanno accorciato nazionalsocialisti a nazisti. Io non dico che abbiamo situazioni del genere qui, no, non è così. Però qualche ecco dagli anni trenta, in politica economica, protezionismo, attacchiamo gli immigrati come capri, esperiatori, ibrei, i musulmani, i messicani, esiste nel mondo occidentale questa tendenza. Quando si fa un matrimonio fra odio raziale, o paura raziale, e nazionalismo economico, secondo me è un cocktail molotov che porterà soltanto male. In tutto questo le banche italiane devono stare molto attenti, le imprese italiane devono andare avanti non ostante il governo, come alla fine gli italiani sanno fare da 50 o 60 anni, di portare avanti la business e le attività e cercare di far finta che non c'è un governo di incompetenti a Roma o peggio. Non porto con me stamattina un messaggio di grande ottimismo. Se volete io sono ottimista a lungo termine perché Italia è un grande paese. La questione che mi pongo adesso è quanti danni possono essere fatti nei prossimi mesi perché siamo in una cavalcata in cui stiamo governati da un'azzoccaglia di sovranisti e incompetenti e non ci portano niente di buono, anzi il rischio è molto serio. Ripeto, non una pacolisse, non è detto che l'Italia deve esplodere. No, è soltanto che l'Italia viene isolata dal resto d'Europa, pagherà 320-350 di spread per un bel po' di tempo e si cercherà di far finta di niente. Se i mercati sono contenti di far pagare all'Italia 300, 320, 330, 340 interessi più elevati e il governo fa finta che le nuove 5, 6, 7 miliardi di interessi aggiuntivi che pagano non vanificano gli sforzi già maldestri e incompetenti che hanno fatto con 400 e il resto, potremmo andare avanti in una situazione dove la narrativa del governo non corrisponda alla realtà dell'economia. Se quello che il governo presenta ogni giorno, ogni tweet, ogni Facebook, ogni intervista per i prossimi sei mesi è, non so com'è la parola giusta, surreale, irrealistico, se si dipingessi un quadro dell'economia che non esiste, allora saremo molto mal messi. Secondo me il rischio quindi non è un crack, ma un periodo di lunga agonia, irresponsabilità. Poi se l'usciere va a Bruxelles sabato, scusami, se il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte va a Bruxelles sabato e riesce a, in tre baletti, fare una svolta con Mr. Juncker, bene, a quel punto io mi vestirei da Babbo Natale e scriverei una lettera a Salvini, ma la verità è che non c'è molta speranza per l'Italia nel breve, ma c'è un'Italia che comunque saprà resistere e siete voi. Quindi complimenti a voi e anche tutta la mia condolienza e simpatia, perché avrete bisogno di veramente tenere duro per un bel po' di tempo, però sono fiducioso che prima o poi le imprenditori e le banche italiane supereranno anche questo, anche questa brutta fase della storia italiana finirà prima o poi. Grazie.